Siamo in piazza Ravanusella, questa è una piazza del centro storico agrigentino, è una vecchia piazza dove si faceva il mercato otto frutticolo, era forse una delle pochissime piazze centrali della nostra città, adesso invece dopo tanto tempo di degrado, di abbandono, la stiamo ripristinando. Se vi ricordate qua c'era anche un distributore di carburanti, ed è assurdo che un distributore si potesse trovare proprio in pieno centro storico, finalmente abbiamo liberato la piazza da tutto quello che non andava, stiamo facendo una paventazione storica e poi visto che nel progetto al centro si era prevista un'aiuola, ho voluto donare alla mia città un olivo secolare, un olivo che viene dalle campagne di Giardina Gallotti Montaperto, sono stato personalmente a sceglierlo, il proprietario me ne ha messi davanti tre e quattro, io poi dopo un'attenta selezione ho voluto scegliere questo olivo. L'olivo perché? A prescindere che è un albero quasi monumentale, poi è l'albero della pace, è un'essenza siciliana nostra, perché ulivi, mandorle e carrupe sono i nostri alberi, sono gli alberi del nostro territorio. I lavori procedono in maniera incessante, penso che in un paio di mesi la piazza sarà consegnata, spero anche fino al mese prossimo e ci sarà anche un'illuminazione artistica, anche per illuminare questo albero che voi vedete qui alle mie spalle. Colgo l'occasione per ringraziare l'ingegnere Cogina, responsabile della protezione civile regionale, che con fonte regionale mi ha dato la possibilità di poter realizzare quest'opera.